questa è la sigla la sigla fatta a mano mentre gli altri youtuber montano le sigle tecnologiche molto molto belle e carine e gli faccio complimenti visto che io non sono in grado la sigla di questo video la faccio con la voce benvenuti benvenuti nel covo delle meraviglie lo vedete ragazzi che nel covo delle meraviglie le sorprese ci sono in ogni angolo assolutamente in ogni angolo intanto se non lo hai fatto iscriviti al canale iscriviti al canale perché ne vedrai delle belle un breve video perché la mia ragazza Giovanna è passata al supermercato e ha acquistato l'ovo della Kinder l'uovo di Pasqua e all'interno le grandi sorpresone le grandi sorpresone eh sì sì le grandi sorpresone che vi faccio vedere brevemente lo voglio condividere insieme a voi ed ecco la prima sorpresa che abbiamo trovato 3BO ricordate 3BO? ve l'ho detto in originale col doppiaggio del 1977 77 ok D-3-B-O C-3-P-O ma come si chiama? e questo è molto strano perché siamo rimasti un po' tante volte un po' sbandati col doppiaggio originale della trilogia ok? la prima trilogia classica 77, 80, 83 con gli altri film e il vero nome è C-3-P-O ma in Italia lo conosciamo come 3BO eccolo qui il grande droide protocollare protagonista di tutti i film della saga guardate che spettacolo questa sorpresa guardate è bellissima eh è veramente bella con il busto e la spada laser carina dai molto molto carina e la seconda sorpresa il maestro Jedi Yoda eh eh non poteva mancare lui guardate in questa posizione che sta scatenando la forza con la spada laser accesa anche qui in mezzo busto con il mantello che svolazza e la base la spada laser bellissimo veramente molto ma molto carino eh sì manca Darfener che non abbiamo trovato perché l'uovo era sparito perché c'era un'offerta dopo Pasqua l'offerta eh perché l'uovo Kinder eh a prezzo pieno è un po' inavvicinabile eh in offerta sono spariti sono rimasti gli ultimi due e fortunatamente abbiamo trovato ehm 3BO e Yoda eccoli qui ve le faccio rivedere ovviamente ci sono le istruzioni eh di montaggio questo Yoda questo C-3PO e poi c'è anche una ehm una cartolina ehm dove possiamo fare un download e avere credo dei premi eccoli queste cartoline comunque dai molto ma molto carino che va diciamo a impreziosire la nostra collezione di Star Wars io ringrazio Giovanna per per l'acquisto eh sì che la forza sia con voi e al prossimo video bada bapam bada bapam bada bapam bada bapam Grazie.